dove si registra un ferito grave ed è tutto al prossimo aggiornamento Dai una spinta alla tua giornata, pillole di positività, un minuto con il coach Giancarlo Forney tutti i giorni alle 8, alle 12, alle 16, alle 20, solo su Radio Michel, amore senza fine www.radiomichel.it Eh sì, oggi è proprio un bellissimo giorno per sorridere A chi? Ma a lui, a lei, a tutte le persone che incontri Come dici? Loro non rispondono a tuo sorriso? Anzi, ti guardano storto? E chi se ne frega? La sorrisoterapia che stai facendo è per te, mica per loro Forza allora! Ancora un sorriso, ancora un sorriso ad una persona Ecco, proprio a questa, a questa che ti sta venendo incontro Ed ogni tanto, fermati Guardati allo specchio e fatti un bellissimo sorriso Il sorriso ti aiuta a vivere meglio Ma che straordinaria terapia, questa sorrisoterapia Sorrido, e sto già meglio! Il sorriso ti aiuta a vivere meglio Il sorriso ti aiuta a vivere meglio Il sorriso ti aiuta a vivere meglio Grazie a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti